buongiorno ragazzi qui è digital chris buone feste oggi proseguiamo con gli unboxing precisamente l'unboxing oggi faremo della xbox serie s questa è una console all digital quindi non richiede cioè non ha un lettore di dischi e ho deciso di regalarmela in quanto prodotto next gen per per testarlo non disponendo già dell'abbonamento del game pass di microsoft per pc mi mancava una console microsoft per quanto riguarda la next gen non ho acquistato la serie x in quanto introvabile non sono riuscito a trovarlo ho detto che mi accontento di questa tanto per me per quello per l'utilizzo che ne faccio penso che sarà più più che sufficiente vediamo adesso insieme che cosa c'è dentro allora adesso il sistema in modo che possiate vederlo anche voi è molto bello il lo scatola all'interno alla fine c'è soltanto la console come potete vedere eccola qui è molto compatta anche se il suo peso ce l'ha insomma bianco e nero è molto piccola effettivamente anche rispetto alle console della precedente generazione vedete proviamo ad aprire la sto aprendo io per la prima volta eccola qui ecco la xbox serie s molto bello ci sono anche molti miei simpatici in giro dove sembra un diciamo un fornello dunque vediamo un po allora avanti abbiamo un ingresso usb di tipo a ovviamente il tasto per accoppiare i controller il tasto di accensione è un tasto fisico non è un tasto a tocco mentre dietro ci abbiamo qui la porta ethernet sempre molto comoda per quando si tratta di gaming altre due port usb qui e qui l'uscita hdmi lo slot di espansione per incrementare il lo storage lo spazio su sulla console che ricordiamo in questa versione è di 512 giga c'è un ssd molto veloce però rispetto alla sorella maggiore la serie x c'è un ssd di 512 mentre la sorella maggiore ce la da un tera quindi diciamo che questa potrebbe essere una porta insomma che farà la differenza oggi i rischi già si trovano per espansione però costano quanto la console che ricordo questa costa 299 euro quindi un prezzo per la next gen accessibilissimo cioè con 299 euro non compri niente praticamente oggi come oggi e ingresso per l'alimentatore e il classico chiesington per antifurto diciamo che la console è molto molto carina penso si possa mettere sia in orizzontale così cioè in verticale cioè in orizzontale avevo detto bene sia in in verticale diciamo la sua figura la fa in entrambi i modi in effetti c'è la dissipazione sia qui e qui quindi penso che in effetti sia ottima già dai pareri che ho letto in giro sembra molto molto silenziosa vediamo poi ci sta ci sta un'altra qui penso ci sta tutta la cavetteria qui dentro come potete vedere nello specifico esce il cavetto di alimentazione il cavetto hdmi e ovviamente non poteva mancare il controller ci sono anche le batterie dentro ecco qui devo dire la verità veramente veramente bello molto 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 convincente e compatto c'è un ottimo grip tasti ben pure i analogici rispondono bene rispetto a quello sedia mi sembra più più compatto ecco molto 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 bello devo dire la verità non me l'aspettavo ne ho comprato anche un'altro in realtà uno in più perché ho detto ne approfitto ho comprato la console c'era uno sconto del 30% sull'acquisto del controller contestualmente alla console quindi ne ho approfittato però devo dire la verità questa volta è un controller che perfettamente compatibile anche per computer quindi ho preso anche preso in più anche per questo io sul computer avevo ancora i vecchi controller dell' xbox 360 con wireless receiver quindi diciamo che ormai la loro diciamo la loro vita l'hanno fatta e poi vabbè dicevo ci stanno anche all'interno ci hanno anche messo delle batterie batterie se non erro dovrebbero essere addirittura delle duracelle vabbè microsoft su queste cose non si non si risparmia non si risparmia mai e dunque allora l'unboxing è finito vi faccio rivedere la console eccola qui questa dietro così davanti è veramente veramente bella non è una console per giocare in 4k diciamo una console per diciamo avviarsi alla next gen a 1080p o a 1440p e c'è un meccanismo di upscaling che consente comunque di inviare segnale in tv in 4k e adesso la dovrò provare dovrò vedere un poco le performance come come sono anche se da quello che ho visto in giro questa è una console che è già disponibile da un paio di mesi quindi insomma è stata già approvata e riprovata io l'ho acquistata in ritardo giusto per regalarmela per questo natale quindi già ho visto qualcosa in giro e sembra comunque un'ottima un'ottima console d'altronde ripeto con evidentemente una console venduta in perdita perché comunque è una console che ha circa 4 4 4 5 tera e teraflops di di potenza quindi è una console di tutto rispetto e diciamo con la componentistica che c'è interna non ci si compra niente a 299 euro quindi in effetti comunque un ottimo rapporto qualità prezzo soprattutto diciamo che diciamo l'ecosistema xbox oggi è interamente gira interamente sul servizio del game pass quindi la console è solo il diciamo il punto di accesso al servizio uno dei punti di accesso perché il servizio game pass consente poi di accedere anche tramite il computer o tramite cloud addirittura con i telefoni android e presto anche con con i dispositivi ios quindi diciamo essendo il game pass il centro di tutto per microsoft ovviamente questo risulta essere un punto di ingresso veramente economico per chi vuole avvicinarsi al diciamo ai videogiochi della next gen perché comunque tutte le tecnologie next gen ci sono qui dentro ci sta un ssd velocissimo c'è quick resume per spostarsi velocemente da un gioco in altro senza dover attendere il caricamento del gioco e in più c'è il retracing ovviamente quindi ci sono tutte le caratteristiche però in una potenza di calcolo più più limitata ovviamente si dovrà vedere nei canonici sei sette anni di durata di una generazione quanto questa macchina veramente di base possa poi dare il meglio più in là adesso magari le differenze non si notano non si noteranno ancora più di tanto però per i giochi usciranno dopo bisogna capire gli sviluppatori quanto supporteranno realmente questa questo gioiellino questa piccola console detto questo ci vediamo per la per le prove per le impressioni non dico una recensione perché è ormai il tempo è passato ne trovate quante e quante ne volete però volevo comunque condividere le mie impressioni per l'unboxing così come farò per le impressioni riguardanti il diciamo il funzionamento le performance e le caratteristiche hardware e software come farò anche per altro per quanto riguarda google sedia che lo sto testando lo sto provando e poi vi condividerò le le mie impressioni detto questo vi saluto il nuovo buone feste e ci vediamo alla prossima ciao